cari amici siamo arrivati al momento della nostra catechesi con il nostro libro di catechesi Međugorje i tre giorni della salvezza e stiamo leggendo i pensieri due o tre al giorno e in tutto sono 75 o giù di lì insomma quindi è una bella sequenza oggi vediamo il diciottesimo pensiero satana vorrebbe cancellare Međugorje ma non ci riesce è bello che anche alcuni esorcisti dicono che hanno sentito queste parole dalla parte del diavolo cari amici siamo ormai in piena apocalisse ma il mondo fa finta di non accorgersi dei pericoli in mani che ci sovrastano e gioca la guerra come se si trattasse di una playstation globale pare di essere ai tempi di Noè quando il patriarca con la sua famiglia costruiva l'arca mentre i vicini lo sbeffeggiavano come se fosse andato fuori di vitesta nel mondo c'è una schiera silenziosa di seguaci della gospa che la ascoltano e la seguono ma senza dare troppo nell'occhio perché rischiano di essere bollati come dei poveri esaltati chi come noi ne parla apertamente ogni giorno mettendo in guardia degli inganni satanici in cui l'umanità è caduta rischiando di perdere la vita e l'anima viene guardato con apprezzione come se avesse bisogno urgente di un trattamento psicologico eppure dopo oltre 40 anni di apparizioni quotidiane dopo le profezie e i messaggi e i miracoli della gospa una valutazione serena dovrebbe essere alla portata di mano di qualsiasi persona ragionevole invece no per alcuni meggiugori è l'inganno del secolo la madonna sarebbe un'allucinazione i suoi ammorimenti creerebbero l'esaurimento nervoso la sua evocazione del diavolo dell'inferno guasta i buonumori degli adulti spaventa i bambini i suoi richiami alla penitenza a digiuno abbassano il pil e via diavolando via diavolando insomma sarebbe ora che dopo oltre 40 anni meggiugori che insomma dicono loro eh le loro aspirazioni loro desideri insomma sarebbe ora che dopo oltre 40 anni meggiugori chiudesse bottega e ci lasciasse vivere in pace perché senza dio e senza madonna si vive meglio capito abbiamo i nostri padri eterni al potere che non ci fanno mancare niente cosa vogliamo di più ci fa mancare neanche le guerre figurati tu cosa vuoi di più c'è poi questa radio maria che disturba chi vuole vivere in pace e che inquina le tre giorni e notte con preghiere a gogo sarebbe ora di dichiarare fuori legge prima che riesca a svegliare troppa gente insomma che cosa aspettano le nostre guardie del corpo sciolte dalle catene a incatenare questi madonnari e a rinchiuderli in qualche sotterraneo della città eterna quando finalmente dicono potremo avere un bel mondo disinfettato da queste superstizioni quando potremo praticare quello che vogliamo giorno e notte e fare baldori con i poveri diavoli senza pericoli di acqua santa il peggio è con questa guerra con la quale ci divertiamo tanto non si può stare tranquilli perché quelli della compagnia del rosario cercano di farla finire mentre a noi piace tanto vederla in televisione che quasi sembra vera non ci dispiacerebbe vedere una mini bomba atomica scoppiare in diretta così facciamo vedere noi che comandi in questa terra che è casa nostra caro amico guarda che sei sbronzo dalla cima dei capelli alla punta dei piedi fatti una doccia gelata così forse ti svegli appena svegliato accendi la domaria e senti quello che trasmette dicono il rosario sì lo dicono anche per te perché la madonna e la madre di tutti anche la tua sei ancora in tempo a salire sull'arca prima che arrivi la pioggia dalla quale non ti salveranno gli ombrelli questo è diciamo così genere letterario satirico adesso andiamo a pensare al numero 19 meggiugorje sarà il nome più conosciuto al mondo già lo è un nome mondiale ma con i segreti meggiugorje diventerà il nome più conosciuto al mondo meggiugorje è uno dei nomi più noti al mondo pari a quelli di rurde o di fatima è un punto di attrazione è un faro di speranza per credenti e non credenti da ogni parte della terra la sua eruzione nella storia contemporanea è iniziata quel 24 giugno del 1981 festa dell'attività di san giovanni battista quando due ragazze hanno visto sulla collina una giovane donna con un bambino in braccio che le invitava a salire il fatto visto con gli occhi della carne potrebbe sembrare insignificante tutto sarebbe svanito nel nulla se quella donna fosse stata una comune mortale da quel momento invece è incominciata una storia fra le più affascinanti che abbia mai vissuto l'umanità e che continua tuttora come un fiume in piena che nessuno è mai riuscito a fermare prima di allora a meggiugorje era un villaggio pressoché sconosciuto tagliato fuori dal mondo che conta per di più collocato in un'area politica dominata dal comunismo che è intollerante verso ogni fenomeno religioso anche di meggiugorje si sarebbe potuto dire con la Tanaele da Nazareth può mai venire fuori qualcosa di buono? perché mai? la madonna ha posto gli occhi su questa parrocchia curata dai frati francescani che nei secoli precedenti avevano difeso la fede del popolo dalla dominazione dei turchi a riguardo non può smuggire la collocazione geopolitica di questo villaggio che allora contava alcune centinaia di contadini collocato alla frontiera di quella parte del mondo dove l'ateismo era il pensiero ufficiale e dove la chiesa è ridotta al limite della sopravvivenza non vi è dubbio infatti che l'apparizione della madonna in un contesto così rischioso aveva destato stupore e interesse fra i cristiani dell'occidente che i presaghi di un evento straordinario avevano incominciato ad alimentare i pellegrinaggi i primi italiani sono stati nessuno allora poteva immaginare che la madre di Dio mantenendo la promessa di Fatima avesse iniziato a realizzare un piano che avrebbe portato al crollo dell'impero sovietico e alla fine della persecuzione alla chiesa la madonna che nel dopoguerra aveva preservato l'occidente in particolare l'Italia da una deriva catastrofica scendeva in campo su un terreno ostile quello del comunismo dove con il risveglio della fede ha provocato il crollo ideale e morale del comunismo Međugorje o più precisamente la parrocchia con tutti quelli che nel mondo hanno risposto alla chiamata è lo strumento col quale la regina della pace realizza il suo piano di salvezza per la nostra generazione come la madonna possa puntare a obiettivi così straordinari con mezzi apparentemente modesti non deve meravigliare chi conosce i metodi del cielo il quale usa sempre strumenti sproporzionati ai fini che vuole conseguire perché si manifesti la potenza di Dio nella debolezza umana fin dall'inizio l'importanza della parrocchia passa chiara nella strategia della madonna che non esita a chiamare i parrocchiani popolo eletto il 15 novembre del 1984 i tre primi segreti riguardano direttamente Međugorje con due monumenti rivolte agli abitanti e poi il segno indelebile sulla collina delle apparizioni la rivelazione dei successivi segreti con l'attenzione lo stupore l'angoscia che susciteranno porranno ancora di più la parrocchia al centro del mondo intero certo che il terzo segreto Međugorje diventa diventa un mondo diventa un diciamo così un centro forse il più conosciuto del mondo ma però nel medesimo tempo porrà l'umanità stessa l'umanità intera dinanzi a scelte decisive se credere o non credere tutto questo può sembrare esagerato a una semplice considerazione umana ma piaccia o non piaccia nessuno oggi potrebbe declassare Međugorje a fenomeno passeggero nato dalla credonoreria dalla superstizione e dalla speculazione vi assicuro cari amici che esistono personaggi che non vedono l'ora di declassare Međugorje e di cancellarlo quindi piaccia o non piaccia nessuno oggi potrebbe declassare Međugorje a fenomeno passeggero nato dalla credonoreria dalla superstizione e dalla speculazione volente o nolente Međugorje è legato al triofo di Maria chi vivrà vedrà tutti i tentativi di sopprimere di diffamare di banalizzare lo straordinario evento messo in atto dall'invidia e dall'ignoranza umane dalla presunzione di chi vuol saperne di più della Madonna e di tutti quei di tutti quei cattivi pensieri di cui il diavolo si serve per i suoi scopi tutto questo finisce nel nulla è finito finisce e finirà nel nulla questo villaggio è la porta del futuro scusate e cosa ha detto San Giovanni Paolo II a Mirian Međugorje è la speranza del mondo quindi possiamo dire questo villaggio è la porta del futuro qui la regina della pace ha posto per sempre le sue tende Međugorje rimarrà una luce inestinguibile nella memoria dell'umanità e il segno cari amici rimarrà fino alla fine del mondo abbiamo ancora per l'ultimo pensiero il numero 20 le tentazioni del diavolo nel tempo dei segreti cari amici quando parliamo dei segreti di Međugorje ci rifaremo a realtà che la Madonna ha rivelato a sei veggenti tre di loro però ne conoscono soltanto nove conosceranno anche il decimo però che in parte ha anche mostrato loro in visione e che la veggente Miriana ha consegnato scritte su un roto di pergamena queste visioni la rivelazione dei segreti si avvicina di giorno in giorno ma sarà dura per quelli che finora pur potendo ascoltare la Madonna non l'hanno neppure presa in considerazione guardate che la Madonna ha detto che aspettare i segreti è troppo tardi per convertirsi beati quelli invece che si sono preparati col cammino di conversione con la fede e la preghiera e che hanno conservato nel fondo del cuore le parole di speranza che la madre ci ha donato infatti in quel tempo di lotta Satana scatenerà tutta la sua forza di seduzione di spavento e di inganno con l'obiettivo di portare con sé le anime che dormono in sonno della morte spirituale chi si è adeguatamente preparato resterà saldo nella fede e nella speranza si affiderà totalmente alla potenza di Dio e all'aiuto di Maria terra fissi gli occhi del cuore al segno sulla collina per fortificarsi nel momento della debolezza dieci segreti cari amici sono un tempo psicologicamente estenuante con eventi che scuotono impressionano ed esigono una decisione solo la preghiera e la grazia potranno portare le anime alla vittoria Satana come ci spiega la valtorta tirerà fuori dall'abisso tutto ciò che ha preparato per questo tempo al fine di trascinare le anime alla perdizione in pochi decenni è riuscito a instaurare il suo regno trascinando al suo seguito le moltitudini di ogni parte del mondo ha detto la Madonna nel messaggio 25 marzo del 2020 Satana regna non dobbiamo per questo smaventarci perché il potere delle tenebre nulla può contro la nostra anima se noi non vogliamo cioè Satana non può espugnarci se noi non vogliamo ma è proprio questo il punto deboli la nostra preparazione spirituale e la nostra capacità di resistere sono insufficienti Satana attaccare alla fede di quelli che sono rimasti fedeli insinuando dubbi che mettono in crisi la loro fiducia la loro fiducia in Dio nelle promesse della Madonna farà dubitare questa sarà la tentazione più pericolosa perché verremmo se cadiamo in questa tentazione privati delle nostre certezze e delle nostre difese vedendo ciò che accade nel mondo che è lo stesso impero dalle tenebre a provocare saremmo tentati di ribellione contro Dio che pur potendo impedire permette che il male diraghi il serpente antico è maestro nell'aizzare le creature contro il creatore per il male che loro stesse compiono per sua infernale isticazione quindi Satana attaccare a quelli che sono rimasti fedeli con i dubbi cercherà mostrando diciamo così il male che fanno gli uomini e saremo tentati di liberarci a Dio e poi saremo anche tentati di disperazione nel vedere la potenza spaventosa dalle tenebre che dall'inferno deborda sulla terra perché i nostri occhi offuscati non saranno più in grado di vedere la mano di Maria che salva e indica la sala del futuro quindi attenzione cari amici essere forti per non cadere nei dubbi per non liberarci contro Dio per non disperarci gli induriti del cuore finiranno per inveire e bestemmiare come l'Apocalisse dice degli abitanti del mondo cioè quelli che non si sono convertiti bestemmieranno saranno inghiottiti dalle tenebre oppure non mancheranno le mani misericordiose dei mariani che si tenderanno verso di loro come c'è un estremo di misericordia cioè i non credenti dovranno trovare delle mani tese e noi dovremmo fare questo ci metto la Madonna quindi il tempo dei segreti sarà una lunga prova della fede che si fortificherà lungo il cammino sarà vittorioso chi ha fiducia in Dio e nella Madonna che sarà presente con apparizioni quotidiane fino alla fine dei segreti ci ha assicurato Vizca la fede la fede però va fortificata cari amici giorno per giorno oggi nella preghiera nell'umiltà nella consapevolezza che la Madonna trionferà e il mondo cambierà perciò lasciamoci per la smaniera la madre e lasciamo che sia lei a condurre la nostra vita verso la salvezza insomma cari amici come ci mette la Madonna se siete miei vincerete dobbiamo essere suoi cercare ogni giorno di essere suoi perché la prova sarà lunga però c'è Maria presente e con Maria possiamo e dobbiamo vincere se saremo fedeli bene carissimi allora per oggi abbiamo terminato e questo libro come vedete ha lo scopo di formarvi anche di informarvi di formarvi e di come dire tenere viva la fiaccola dell'attesa se no arriva lo sposo e noi non abbiamo più olio e dormiamo e dormiamo bene cari amici allora per chi vuole avere questo libro mi gioco i tre giorni della salvezza può chiederlo a Radio Maria con Whatsapp 031 600 10 600 con telefonando all'ufficio informazioni 031 610 600 mentre il l'orsap è 031 610 610 poi anche col sito radomaria.it cliccando catalogo e l'indirizzo e-mail info.it chiocciola domaria.org potete ordinarlo all'istore online e poi anche andare nelle librerie specialmente quelle cattoliche bene carissimi anche oggi abbiamo fatto qualcosa che dovevamo fare ringraziamo Dio per questa bellissima giornata teniamo viva la preghiera cerchiamo di essere luce amore pace come ci ha detto la Madonna e adesso un tuo messaggio grazie per l'aiuto che fate a Radio Maria che Dio riempia di pace e di amore i vostri cuori generosi con questo abbiamo terminato vi do l'appuntamento domani